Siamo con Marcello Fo, giornalista di scuola montanelliana, saggista, scrittore e professore universitario di giornalismo internazionale e di comunicazione. Politica estera, Giulio Reggeni, che idea si è fatto? Mi sono fatto di un ragazzo benintenzionato, forse un po' ingenuo, che purtroppo è caduto in un gioco molto più grande di lui, nel senso che a me sembra evidente che il comportamento dell'università di Oxford, credo che fosse Cambridge, non ricordo più quale delle due, sin dall'inizio è stato abbastanza curioso, perché anziché preoccuparsi per il destino di questo giovane italiano, c'è stato un silenzio piuttosto eloquente, poi si è saputo che la sua docente era una persona molto vicina a fratelli musulmani, e probabilmente lui è finito nel mirino dei servizi segreti e chissà in quale gioco di rimbalzi, accuse, sospetti, ed è anche molto strano il fatto che quando lo hanno ucciso abbiamo fatto ritrovare il cadavere, cioè in un paese come l'Egitto se tu vuoi far sparire qualcuno lo seppellisci in mezzo al deserto e questo non lo troverai mai più, e invece quando lo fai ritrovare a posto in un fossato vuol dire che tu vuoi lanciare un messaggio. Per questo secondo me la vera ragione probabilmente non la sapremo mai, o perlomeno non in tempi brevi, e la matrice più profonda è una matrice di giochi che un giornalista o un osservatore dall'esterno non può capire, spiace molto che un ragazzo probabilmente davvero benintenzionato abbia fatto questa fine davvero orribile. Erdogan recentemente ha vinto di misura il referendum in Turchia. Come cambiano gli equilibri politico-economici in Europa e nel mondo? In Europa cambiano nel senso che noi oggi abbiamo la fine di un'illusione. Io personalmente ho sempre ritenuto che Erdogan non fosse il leader islamico moderato che è stato descritto a lungo dalla stampa europea e americana, ma che fosse fin dall'inizio l'autore di un'agenda islamista che inizialmente era nascosta e oggi appare evidente. Questo è un satrapo, un leader autoritario, un dittatore di fatto e chiaramente l'Unione Europea non può permettersi di avere né l'adesione né e una partnership privilegiata con un leader di questo tipo. La vera domanda è come gestirà, con quale tempra, con quale capacità di analisi e di risoluzione la leadership europea affronterà il problema Erdogan? Perché purtroppo abbiamo visto che si fa facilmente ricattare, la Germania è titubante, per cui questo per noi europei è il grande punto di domanda. Però se la domanda è Erdogan è affidabile, la risposta è no. E anche nello scacchiere medio orientale, Erdogan è molto bizantino inevitabilmente, bisogna capire se lui ha dietro un disegno strategico che lo mira a posizionarsi, che mira a posizionarlo in modo differente rispetto a ruola da Turchia degli ultimi anni, oppure no. Io sono stato piuttosto colpito dalla reazione degli Stati Uniti che si sono affrettati a riconoscere il risultato del referendum. Questo in termini geostrategici cosa può significare due cose? La prima, l'America ha paura e pensa che la Turchia debba essere lo stesso un alleato indispensabile, per cui pazienza se il processo democratico viene così alterato in maniera così visibile. La seconda, l'America è totalmente consenziente, Erdogan ha già riallacciato i rapporti con gli Stati Uniti. Oggi non ci sono elementi per poter dire quale di queste due ipotesi è la più probante, ce n'è una terza, è che gli Stati Uniti, la cui politica in Medio Oriente è stata molto ondivaga e tendenzialmente fautrice di un squilibrio, di un caos che oggi vediamo ogni giorno e di cui paghiamo pesantemente le conseguenze sia in termini di vita umana sia in termini economici, può anche darsi che gli Stati Uniti non abbiano una rotta sicura, il che sarebbe lo scenario forse più sconvolgente perché significerebbe veramente che Washington ha perso credibilità, ha perso capacità prospettica. Io però non credo tanto a questo scenario, io penso che ci siano dei giochi, delle tentativi di intese tra Washington e Ancara in questo momento, non tarderemo a capire qual è davvero la portata di questa svolta. Kim Jong-un, Putin e Trump, tre uomini forti al comando rispettivamente di Corea del Nord, Russia e Stati Uniti, un intreccio che può sconvolgere il mondo. Sì, può sconvolgere il mondo, il primo è uno scenario abbastanza prevedibile, cioè la Corea del Nord è il regime che conosciamo tutti, ma è un regime che tutto sommato si è autoconfinato in un giardino. A riaccendere le polveri è stata Washington, quando tu minacci di intervenire, mandi poi le navi anche se magari sbagliano strada e ti comporti in questa maniera, tu vai a provocare il dittatore. La domanda è perché lo hanno provocato, cosa vogliono ottenere e secondo me comunque è uno stato, la Corea del Nord, che con i giusti canali, con il ruolo decisivo della Cina si può circoscrivere. Molto più delicato è il rapporto con Putin, perché sappiamo benissimo che Putin ha nutrito una speranza di dialogo e di riappecificazione con l'America di Trump e Trump in campagna elettorale ha più volte esternato la sua stima nei confronti di Putin. Noi europei, a meno quelli che sono liberi di pensiero, riteniamo che un'alleanza, un riavvicinamento con la Russia sia totalmente nel nostro interesse economico, geostrategico, sociale, politico, ci sono solo elementi a favore. Oggi purtroppo però siamo in una situazione in cui a Washington Trump sembra aver in gran parte abdicato alla sua agenda, alle speranze di un'America diversa rispetto a quelle degli ultimi anni e per questo si sia riallineato con le linee dell'establishment neoconservatore. Questo significa che Putin non è più un leader con cui perlomeno ci si può confrontare, ci si può sedere al tavolo, ma è un leader che il vecchio establishment ha ritenuto di dover mettere in un angolo. Ormai da oltre due anni, tre anni, ci sono le sanzioni contro la Russia, io recentemente in un dibattito televisivo ho fatto la domanda semplice e fondamentale, che cosa vuole l'America? Che cosa si propone di ottenere l'America mantenendo le sanzioni e magari inasprenderele? Perché qualunque decisione di politica estera deve essere inquadrata in un quadro più ampio. A questa domanda Washington ufficialmente non risponde. E l'ipotesi più probabile e secondo me molto preoccupante è che in realtà l'obiettivo di Washington sia quello di giungere a un cambio di regime a Mosca, ovvero affinché al posto di Putin, che difende secondo me legittimamente gli interessi del suo paese, ci sia un leader che in realtà sia totalmente su posizioni americane. Ma questo gioco è molto pericoloso perché la Russia ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di cedere e ha gli strumenti militari atomici anche per resistere e il popolo russo è abituato a sofferenze incredibili, a privazioni incredibili, la sua storia lo dimostra e per cui non è certo un popolo che si lascia disarmare dalle sanzioni. Ecco perché in realtà tra i tre scenari quello più critico, quello più importante nel medio termine per noi europei è il rapporto tra Putin e Trump e io in questo momento purtroppo non vedo segnali di ottimismo in tal senso.